... si stiamo sveglando e come se stiamo sveglando come se stai sveglando si stai sveglando si stai sveglando no, si stai sveglando ok ok E' whizzi innovative quindi oh 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 hai Hai multiplikan mamma si hai ah sia o Stephanie Halo yeah Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. hai ragazzo Gosone wak 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 ho messi arippin winde mao Steven in jaluk Trus di tumbas no bec answer Pinti sa me nikahi gila ngopo faccio Hai piar bagaimanapun dia mengatakan terima kasih baru bangun ahmi Oddio bello Ammo nasa Ammo singa Ammo singa Ammo singa Dukun ho messi es reazione e me wessi hai pocchi letti terussi hai 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 oh Hai kita ngurima yun yes per me sai tanpa mamma hai 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 al eito anche bore magari non potre ma bella si chiudere amico si chiudere si è di questo si è lo uccinna si è lo uccinna quando sono oficinna io non sono arrivati ma comunque quando gli amici anche ma è lì ma mari aveva era riuscita he he hispilato si è non è che haggi raffa ho haggi raffa 5 tanti haggi raffa 5 tanti haggi raffa 5 tanti haggi raffa 5 tahun haji kemarah lima tahun untuk tua kemarah haji mabruru yuk haji mabruru Hai iya ha Evang tahu hijak hijak mardut ini ini mak berluru ayo ayo merangkap apa 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 bajai e a teco iscrizionate lo andré le bacio è panna si è se Mr. Opa secolato è di rompipo 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 sattar rompipo op rompipo i ho chiamato io 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 i le i j bul non mi legno Dasce io e ah 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 ok Ok, ok è un bel è il mondo è fatto è un bel il mondo è un bel è un bel è un bel è un ragazzo è un ragazzo è un ragazzo Haji Rafa prende le ragazze let's go aio ora per il giro Haji Rafa Hehehe Haji Rafa Pantagò Pantagò Ma che fa' sotino Pantagò Pantagò chiusa chiusa ok ma è di bandara ma è il corpo a questo giorno come pa come stai come stai io 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 ok super hehehe lo lete di wale inizia salun salun con ma buda iya darato olie Yes Allah 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 Langsung peliae Langsung peliae Bature Semangat olahraga Oh Semangat come ular raga dulu guys a 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 ayo ayo nanti beli es krim yang ikut yuk nanti beli es krim yuk nanti beli es krim yuk 2000 saya hitung oke tk kecil 16 tk besar kita enggak enggak paling sekitar lawinan enggak 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 Sì, ho detto io Valentino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti